I ritardi nella distribuzione del vaccino antinfluenzale in Puglia finiscono al centro di un'inchiesta della procura di Bari, che intende verificare se l'azienda farmaceutica Sanonfi abbia rispettato i termini del contratto da 8,3 milioni di euro siglato con la regione e se il mancato rispetto dei tempi di consegna abbia provocato danni alla popolazione. Nelle scorse settimane, medici di famiglia e farmacisti avevano denunciato a più riprese la scarsa reperibilità del vaccino a fronte di una domanda quanto mai elevata rispetto agli anni precedenti. E a fine novembre il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro aveva addirittura invitato la società in Nova Puglia, quale soggetto organizzatore della gara d'acquisto, ad intraprendere azioni legali contro la Sanonfi per i ritardi nella consegna del milione e mezzo di vaccini aggiudicati. Nei giorni scorsi, senza che la regione abbia poi formalizzato alcuna denuncia, i carabinieri del NAS sono intervenuti nella sede di Nova Puglia per acquisire la documentazione relativa alla Sanonfi e le missive di diffida dal perseverare nei ritardi inviate al colosso farmaceutico francese. L'attività investigativa è nata su impulso della procura di Bari ed è coordinata dal pool specializzato in reati contro la pubblica amministrazione.